Perucci leggermente troppo lungo per Fuser, vedete che non è impeccabile, Fuser, gol! Gol di Fuser, erroraccio degli impacciati difensori del Galles, ne approfitta prontamente Fuser e mette dentro, è un gol che ci voleva, gol di Fuser, 19 in minuti del primo tempo. Sto vedendo che Perucci sta giocando molto fuori, attenzione, di Francesco, ecco Roberto, ecco il pallone per Vieri, si gira Vieri, 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 sì, grande giocata di Vieri, 2 a 0, non è in condizione ma è sempre uomo gol straordinario. Non c'è niente a fare, è stato bravo Baggio, è stato molto bravo a rubare il pallone di Francesco, a giocare subito a Baggio, come ha ricevuto il pallone lo ha dato in verticale per Vieri che è stato molto bravo a dribblare e mettere in porta.